L'attesa sta per finire. Tra due giorni, sabato 11 maggio alle 21, al Palasichelli Archivi inizierà la serie dei quarti di finale play-off tra Benfap Capodorlando ed Edil Nolbiella. I piemontesi, che agli ottavi si sono sbarazzati per 3-1 di Udine ribaltando il fattore campo, sono stati l'ultima squadra ad avere battuto l'Orlandina il 31 gennaio scorso all'Hype Forum. Da allora i paladini sono cambiati, sono cresciuti e non hanno più perso. Reduci da 13 vittorie di fila arrivano ai quarti con energia ed entusiasmo, ma consapevoli delle difficoltà crescenti. Arriviamo sicuramente carichi dopo il 3-0 del primo turno, allo stesso tempo consapevoli che loro sono una squadra molto più solida di quella che abbiamo già affrontato. Tant'è che l'ultima nostra sconfitta, che magari risale a gennaio, è stata contro di loro, seppur non avessimo Gio Trapani ma avevamo Jacopo. Appunto Gio è stato un inserimento molto importante, un inserimento solido, forse un pochino più fisico rispetto a quello che ci poteva dare Jacopo, senza niente togliere. Speriamo appunto di fare del fisico, del nostro gioco, quello che abbiamo imposto da gennaio fino ad ora, la nostra arma vincente contro Biella. Stiamo aspettando il recupero di Simone che quasi sicuramente avverrà con gara 1 del secondo turno, ci ha aiutato a riposarci, a recuperare energie mentali che adesso ci aspettano una serie molto tosta. Nick, un appello ai tifosi per sabato e anche per lunedì? Abbiamo veramente bisogno del vostro supporto così che possiate essere il vero sesto uomo in campo.